Come vivi? Che fai di bello per vivere? Questa è la domanda di Andrea ed è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video. Ho appena finito di saltare, gridare, cantare con una mirea di bambini in Kenya, ci troviamo qui in questo momento, quindi la domanda mi fa un po' sorridere perché la domanda è un po' misteriosa, ambigua, polivalente, quindi non so esattamente che cosa tu voglia sapere Andrea, quindi dipende dove siamo. Abbiamo una fondazione, abbiamo costituito una fondazione che ha lo scopo di aiutare i bimbi e di cercare di preservare la natura, quindi in questo momento siamo in Kenya e stiamo lavorando con un progetto con i bambini, con una scuola, con un orfanotrofio e con un ospedale e quindi in questo momento siamo qui. Prima eravamo in Amazzonia, stavamo cercando di fare qualche cosa per preservare questo polmone straordinario, l'Amazzonia, queste piante meravigliose e quindi dipende un po' insomma dove siamo. Quando siamo in Europa organizziamo degli eventi, delle cerimonie per riportare quella che è la saggezza che apprendo girando in giro per il mondo, per restituirla al mondo occidentale e con il denaro incassato in occidente lo restituiamo ai popoli che ci hanno dato la loro conoscenza. È un po' un win-win per tutti. Quindi apprendo delle cose, per esempio in Africa, le riporto in Italia, il denaro serve a sostenere questi tipi di progetti. e questo è un po' come funziona la fondazione. Se la domanda era come, che fai di bello per campare, come fai a campare? Da tanti anni, per tanti anni mi sono dedicato alla vendita di prodotti naturali e questo mi ha permesso di creare un bacino di clienti che mi dà l'opportunità di vivere, di sostenermi. Ho delle rendite che mi permettono di sostenermi. E di dedicarmi appieno al progetto della fondazione. Quindi ho avuto questa fortuna, nel senso, me la sono creata questa fortuna, nel senso che mi sono fatto un mazzo grosso come una casa per tanti anni, per riuscire ad essere in questa condizione, ad essere in questo momento dove desidero essere. Perché fortunatamente possiamo spostarci, non siamo piante e quindi abbiamo la libertà di essere dove vogliamo essere e quindi ho questa libertà grazie a quello che ho fatto nel passato. Quindi non so Andrea se hai risposto bene alla tua domanda, qualora non fosse, non era questa la domanda, rifalla, riformulala e vedrò di risponderti meglio. Con questo è tutto, da Luca Luna è tutto, dal Kenya è tutto, ti saluto, ciao!